Pasta con crema di carciofi e pancetta, cremosissime e senza panna. Inizia ricavando i cuori di carciofo, leva le foglie più dure, taglia via lo strato più esterno della base, leva le punte più dure e i peletti centrali, poi taglia le fettine sottili. Adesso puoi metterti ai fornelli, trita finemente mezza cipolla e falla rosolare in padella con un filo d'olio. Aggiungi i carciofi, un pizzico di sale, fai rosolare qualche minuto e sfuma con un po' di vino bianco. Pizzico di pepe nero, un pochino d'acqua, cuoci 10 minuti e metti nel mixer con la ricotta fresca. Un bel giro d'olio generoso e frulla. A questo tempo cuoci la pasta e aggiungi un mestolo dell'acqua di cottura alla crema per renderla più morbida. In un'altra padella fai rosolare la pancetta con un filo d'olio e quando è cotta tu faci la pasta. Fai insaporire per qualche minuto, togli dal fuoco e aggiungi la crema ai carciofi. Mamma mia che profumo! Metti nei piatti mangiata di prezzemolo e gusta! Buon appetito! Buon appetito! Grazie a tutti.